Chiusa non senza un mare di rimpianti, la parentesi A tra Ortona e Pineto torna alla B maschile. L'Iseini Alba Adriatica perde nelle immagini 1-3 contro il quotato San Giustino, ma il risultato non rende merito a quanto visto in campo. Il sestetto di Petrelli ha perso di misura gli ultimi due set, ma con una difesa più precisa e meno servizi errati avrebbe potuto, trascinato dalla coppia di Felice e Di Meo oltre 30 punti in due, riportare un risultato diverso in vista del match di ritorno. A fine settimana in terra perugina. Discorso diverso per il Paglieta nelle immagini, la generosità non basta a scalfire la corazzata a Casarano, consolidata pur forte com'è dall'arrivo di tal Paoletti, una vita in A ed ex si è cortona. Un 3-0 facilmente pronosticabile e reiterabile in gara 2, ma che nulla toglie al percorso della società di Vitelli che si è garantita, regolamento a parte, comunque la permanenza in B dopo una brillante prima fase. Domani il via alla B2 femminile, alle 20 il Teramo riceverà le umbre del Trestina, alle 21 l'Arabona sarà di scena a Corridonia e i rispettivi ritorni in programma sabato 15, quando in campo ma per la B1 scenderà anche l'Altino impegnato a Iesi.